Cassa Depositi e Prestiti gestisce un programma nazionale di investimenti in housing sociale, quindi in alloggi a canoni e prezzi calmirati per le fasce deboli. Investe in nuova edificazione, quindi in progetti che si realizzano dal nuovo, con particolare attenzione a coniugare la qualità dell'abitare, la classe energetica elevata, le finiture di pregio con prezzi e canoni accessibili per la gente che non è in grado di acquistare o casa sul mercato, di trovare in affitto alloggi sul mercato.